76 76 testa treno 1 2 coda treno niente c'è una tartavuca una delle poche superstiti per i più poi si vede poi si vede in un bilancio in un bilancio si vede in un bilancio in un bilancio Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Grazie a tutti